Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. L'altro giorno mi è capitato di parlare con una persona su Instagram su come replicare i pomodori che abbiamo tagliato. Allora, mi è venuto in mente, avevo già fatto un video un po' di anni fa, ma è peggiore di quelli che faccio adesso, quindi lo rifaccio ex novo e facciamo prima, perché già adesso non è che siano proprio dei film d'autore, ma una volta erano veramente una cosa... Allora, questa l'ho appena tagliata da un'altra piantina, pochi minuti, hanno pochissimi minuti di autonomia, poi si afflosciano e praticamente se non li si mettono subito in acqua muoiono. Adesso dopo vi farò vedere come taglio da quella, ma nel frattempo vi faccio vedere questa qui che ho appena tagliato, mi dispiace buttarla via, è molto bella. Questo è un getto ascellare, l'ha cresciuto un po' troppo, semplicemente lo pulisco, lo posso anche lasciare così, e vanno messe subito in acqua. Faccio vedere l'operazione che precede questa, ecco qua, questo è un getto ascellare molto grosso, al pari di quell'altro. Mi aiuto con un taglierino o un coltello, affilato, ma soprattutto disinfettato, eccolo qui. Questa, se attecchisce, è una pianta identica alla pianta madre. Tolgo ciò che posso togliere, lascio soltanto i due rami principali e metto nell'acqua. Allora, guardate la differenza, questa, la prima che vi ho fatto vedere adesso, l'ho tolta forse 5 minuti fa, si è già afflosciata, ecco così. La percentuale di attecchimento non è elevatissima, tenete conto che un 50% di quello che farete andrà perso, però pazienza, se sono comunque getto ascellari che andrebbero persi, avere un 50% di piantine in più, se ne avete bisogno, è una buona cosa. L'alternativa è fare un macerato di pomodori con questo, vi lascio qui il link in descrizione. Attenzione, il macerato di pomodoro è potentissimo, infatti va poi diluito, perché se no brucia le piantine. Ma questo vi do il link, ne vediamo un'altra. Sono piante che ho femminillato 10 giorni fa, ma nel frattempo è arrivato il bel tempo, quindi si sono riprese alla grande. Sto facendo vedere la tecnica, quella più semplice, quella di metterle a bagno. Per esperimento, una decina di giorni fa, quando le ho pulite, cosa ho fatto? Avevo un vasetto pieno di terra, inzuppata di acqua, dopo ve lo farò vedere, e le ho infilate semplicemente tutte là dentro. Ogni giorno inzuppavo di nuovo il terreno di questo vasetto. Ci sono riprese quasi tutte, però è la prima volta che lo provo, quindi non volevo farvelo vedere in mancanza di risultati buoni, i risultati li ho avuti, però bisogna starci dietro, quindi questo è un metodo un pochino più semplice. Quindi è un'operazione che porta via una settimana, 10 giorni circa. Tolgo le parti laterali per dare più forza alla pianta. Queste piccole così invece non mi servono a niente, le possiamo buttare. Anche quelle così difficilmente attecchiranno. Qui abbiamo una pianta gemella nata dal tronco. A volte capita che il tronco emetta due getti, tutte e due belli vigorosi, non è un getto ascellare. Si sviluppano entrambi nello stesso modo, ma ovviamente non hanno la forza che ne avrebbe uno solo. Quindi lo tolgo, questo l'ho tolto poi in ritardo. Ciò non toglie che lo tratto esattamente con un getto ascellare. Lo pulisco da tutto. Ecco. Questo lo posso lasciare così. E lo metto a bagno. E già che ci sono, ne approfitto per legarla. Le foglie bianche che vedete sono il risultato del trattamento che ho fatto ieri con quel triste prodotto che vi ho parlato più volte. Canino di castagno, bentonite e caolino. Questo è il risultato. Ora una foglia così è più resistente alle muffe, è poco visibile alle cimici e soprattutto resiste ai raggi solari, cioè non vengono bruciate, non vengono mai perché la temperatura rimane più bassa e quindi ha un po' di vantaggi interessanti. Vi lascio il video qui se volete, ne avevo già parlato. Ecco, questa secondo me è la dimensione minima per provare a fare un salvataggio. Parliamo di 12 cm circa. Ecco, vedete da ogni pianta, già di queste dimensioni, qua siamo intorno ai 40 cm di altezza, riusciamo a fare 4-5 oggetti ascellari, tra oggetti ascellari e rami basali, quelli che nascono alla base. Ci possiamo poi trovare nel caso come questo. Guardate, questo oggetto ascellare qui, praticamente, naturalmente vigoroso che è robusto quasi quanto il tronco. Dal momento che non ha fiori ancora, questi fiori sono dall'altra parte, io lo tolgo. Avesse avuto i fiori, l'avrei lasciato, quel punto sarebbe stato un peccato toglierlo. Oh, qui abbiamo il primo pomodoro, non l'avevo visto, guardate, anzi, i primi due. Bene, adesso vado avanti per conto mio e vi faccio vedere il risultato di quei rametti che avevo messo direttamente nel terriccio. Faccio vedere un po' un attimino com'è, poi scegliete voi quale metodo utilizzare. Questo con l'acqua è un po' più semplice. Ora vi mostro quelle che, invece che metterle nell'acqua, avevo messo direttamente nel terreno. Dunque, in questo vaso qui, mano a mano che tagliavo le fiamminelle, le inserivo, qui c'è del terriccio. Ho fatto che bagnarlo tutti i giorni, ma abbondantemente, in modo tale che l'acqua filtrasse, che collasse dalla parte opposta, tutti i giorni per sette giorni, sono passati circa sette giorni. Si sono riprese tutte, tutte quante, le ho tenute in serra, non esposte alla luce solare diretta. Stavo guardando se avevo afidi, invece è soltanto terriccio. Non esposte alla luce diretta, quindi il consiglio che vi do è, non tenetele esposte alla luce diretta, perché si afflosciano, non riescono a riprendersi. Ora ho preparato dei vasetti con del terriccio alla semina, di buona qualità. L'operazione da fare adesso è questa, di metterle una a una dentro il vasetto, quindi un trapianto normale, tenere il vasetto sempre umido, tutti i giorni umido, per 3-4 giorni. Lo vediamo finché la pianta si riprende. Nel momento che si sarà ripresa, aspettiamo ancora un giorno o due, e poi la possiamo trapiantare col suo panetto di terra direttamente nel terreno. Ora bisogna estrarre piano piano. Guardate, hanno rifatto le radici. Guardate che spettacolo, hanno rifatto tutte le radici. E quindi sono pari alle piantine che abbiamo comprato, da cui sono nate queste qua. Guardate, vedete? Eventuali rametti che toccano il terreno, li togliamo, non va bene. Qui ci sarà acqua. Questo è un terreno asciutto per adesso. Ecco qua. Bagno subito, perché? Nel momento in cui lo togliamo, adesso fa caldo, se no bagniamo subito, nel giro di pochi minuti, la piantina si affloscia, soffre. La faremo soffrire inutilmente. Bagno fino a quando non mi cola dall'altra parte. Ora faccio un po' un pacciocco, mi dispiace. Dopo aggiungo altra acqua, finché non mi cola. Questa è iniziata adesso a fare le prime radichette. Speriamo che si riprenda. Togliamo questa. Togliamo le foglie secche. Questa, vedete, ha sofferto un po'. Tolgo la vegetazione che non mi serve per darle più forza e più possibilità di attecchire. Guardate che bella. Allora, vi faccio vedere una cosa. La terra copriva fino a qui. Il pomodoro, quando è immerso nel terreno il gambo, tira fuori le radici. A qualunque altezza del gambo esso sia. Ecco perché è importante ogni tanto fare il rincalzo del pomodoro. Queste sono le prime radici. Se noi mettiamo un po' di terra intorno e escono fuori nuove radici, la pianta ha più possibilità di riprendere linfa e di ciò che gli serve. Infatti, tra un po' farò il video del rincalzo dei pomodori. Che qua, ovviamente, togliamo. Non li metto direttamente nel terreno, anche se potrei, perché hanno un po' di radici, perché in vaso è più semplice controllare il loro stato di crescita e vedere se soffrono, se hanno bisogno di acqua. Tenete conto che adesso ci sarà il caso che si ammosceranno un attimino, si afflosceranno, non bisogna preoccuparsi. Le teniamo bagnate ogni giorno, come vi dicevo, per 3-4 giorni, finché si riprendono. Ecco, poi, una volta che si sono riprese, non bisogna esagerare con l'acqua, perché se no abbiamo poi l'effetto opposto, marciuno nel colletto. La prendiamo, la buttiamo via. Bisogna fare un po' di esperienza, insomma. Ora, nel momento che ho pressato il terreno, fatica un po' a scendere l'acqua. Questa addirittura ha messo le radici soltanto qui e non qua sotto. A noi va bene lo stesso. L'importante è che adesso vengano coperte. Le faccio ancora una, ecco, guarda, questa, già col suo panetto di terra. Allora, vi ricordo che queste sono le cloni delle piante madri, non c'è alcuna differenza. Se vogliamo fare i conti della serva, in un piccolo orto domestico, se vogliamo guardare un attimino i soldi, lì abbiamo 2,50 euro di piante, perché se i piantini di orto mio costano 2,50 euro. Se voi vi fate il conto di quante le abbiamo salvate, ecco, che alla fine della fiera magari non è difficile tirare su 20 euro di piante. Sembrano pochi, però buttarle via onestamente. A meno che non ci dobbiate fare il macerato di pomodoro. A me tirarle via è un peccato, insomma. Sono belle. Adesso vediamo tra un po' come sono messe quelle invece che avevo messo in acqua. Queste sono quelle che ho preso ieri. Stanno soffrendo. Sono anche più grandi delle altre, devo essere sincero. Quindi soffrono un po' di più. Messe a bagno. Ho già cambiato l'acqua una volta. Non mi piace perché stanno soffrendo un po' troppo. Allora, ora farò così. Utilizzerò lo stesso vaso che ho utilizzato l'altra volta. Quelle che ci stanno riesco a mettere le metto. Poi se no cambio vaso. Le metto in un altro. E le metto direttamente a terra, seguendo poi lo stesso percorso che hanno fatto loro. Nel senso che le terrò poi 4-5 giorni in questo vaso e la terra sarà sempre ben inumidita e vedrete che si riprendono molto più velocemente. Purtroppo erano un po' più avanti queste qui. Come vedete qualcuna addirittura c'è i fiori. Sono arrivato tardi a potarle. Le tengo così. Vi ricordo che c'è un tasso di fallimento intorno al 50%. Almeno quello che ho visto. Semplicemente, mano a mano, se le prendo, le grandi queste. Questa è già in produzione. Questa è un tasso di fiori che posso anche togliere. Tanto non è che mi devi portare avanti. Questo è un basso. Questo è un basso per me. Ciò che mi metto il più in fondo possibile. Così metto più terra. E come avete visto, poi si attecchiscono dal gambo. Nascono poi le radichette. Quindi si riprendono un pochino più velocemente. Queste, tra l'altro, le avevo già trattate con quel tipo di prodotti lintonite, caulino e tannino di castagno. Le vedete bianche per quel motivo lì. Benissimo. Acqua, come se piovesse. Messo un po' troppo a terra, quindi adesso ho difficoltà a mettere l'acqua. Non ci mettiamo più di tempo, ma facciamo lo stesso. Vedete? L'acqua scorre giù. Quindi va bene così. Dicevo, brutta da vedere. Però salviamo qualche piantina. Perché si fa questa operazione? Dunque, avere piantine di scorta è una buona cosa. Siamo a giugno inoltrato. Qualche piantina muore, stava facendo. Oppure magari arriva una grandinata e ci distrugge qualche pianta. Oppure qualche pianta viene colpita da qualche misopatia o qualche malattia. Insomma, togliamo quella che abbiamo e possiamo mettere uno di questi di scorta. E poi se avanza qualcosa, pazienza, lo aiuteremo. Ci facciamo il macerato. Va bene lo stesso. Però intanto abbiamo una scorta. Gratis. Se vi viene più comodo potete anche bagnare il terreno e poi infilarlo uno a uno, come volete voi. Ci rivediamo fra qualche giorno. Vediamo come si sono riprese queste qui e poi tiriamo le sogne. I più attenti avranno notato che questo non è il pomodoro. Chi siamo noi per togliere la vita? Però lo facciamo, vediamo che sia l'unico. Ok, ci vediamo nei prossimi giorni. Sono passati quattro giorni da quando ho messo i pomodori qua direttamente dentro la terra. Gli ultimi che avevo preso. Gli ultimi getti ascellari, le ultime femminelle. Guardate, si sono riprese quasi tutte. Sono ancora un po' mogie perché oggi non le ho bagnate. La terra è asciutta. Le ho bagnate ieri, però sono già quasi pronte per il trapianto. E queste sono quelle che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Guardate che belle, si sono riprese tutte. Guardate, sono pronte per essere trapiantate così con il loro panetto di terra tutto insieme. Sembrano appena acquistate. Farò la stessa cosa con queste. Ora il consiglio che vi do è di trapiantarli una per una nei vasetti e attendere due o tre giorni e aspettare che arrivino a queste condizioni qui ovvero belle, sane e senza stress da trapianto e a quel punto si possono trapiantare nel terreno. Quindi ricapitolando, l'operazione è semplice. Si ritagliano le femminelle e si mettono in acqua un paio di giorni. Anche se tendono ad afflosciarsi non vi preoccupate, non tutte attacchiranno, ve lo dico subito. Dopo un paio di giorni si trapiantano nel vaso così. Fatta questa operazione si attende che si riprendano una settimana circa, 4-5 giorni dipende un po' dal vigore della pianta. Si bagnano tutti i giorni ma con acqua abbondante deve colare dalla parte opposta. Dopodiché una a una si trapianta nel vasetto. Io ho provato anche a trapiantare direttamente dall'acqua al vasetto. Di coerabilità non ho avuto grossi successi. Qua con questo metodo invece ho visto che funziona un po' meglio. Ho anche trapiantato le prime che ho fatto infatti ve l'avevo detto le ho messe direttamente nella terra però se magari siete le prime armi provate prima con l'intermezzo di un paio di giorni nell'acqua e poi le mettete in un vasetto unico. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto volete condividerlo mi fa tanto piacere perché così magari lo fate conoscere a qualcun altro o qualcun altro appassionato di giardinaggio e di orto. Se volete mettere un like ve ne sono grato. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo.